Allora raga siamo appena arrivati al nuovo giro del nuovo bivacco al parcheggio abbiamo i nostri sempre due alpinisti di solito si sono abituati a scherare le montagne quelle in bilico e siamo arrivati al primo lago di Antrona per poi andare sopra di là alle montagne al bivacco di Camposecco ecco qua abbiamo un altro spezzettone del nostro super laghetto con il fiume in cascata allora il nostro giretto intorno al laghetto finisce qua perché adesso inizia la salita col sentiero e dobbiamo salire almeno per iniziare 40 minuti poi mangeremo ragazzi siamo arrivati alla diga campiccioli barra campiccioli non so come la volete chiamare qua c'è il tubo con la catena attenzione uno spettacolo della natura c'è brutta cosa che è nuvolo oggi però ci vediamo questo lago favoloso in teoria come ho visto ho letto così questo laghetto dovrebbe essere naturale in teoria prima era un po più piccolo poi è stato allargato comunque parte naturalmente invece quello sotto è artificiale per chiarire Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo un bel po' di ore si vede il bivacco finalmente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' l'ultimo laghetto che abbiamo qua ma è tutto ghiacciato. E' l'ultimo laghetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.